Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Horizon, Blind Forest, bene ho preso questo Finalmente così l'ho preso anche da lì, siamo posto E' stato facile, non è stato difficile Salviamo che è meglio, questo cono si è rifatto, l'avevo ucciso Le palle, andiamo di qua per vedere L'abilità Togliamo se non c'è niente Ok, aspetta un attico Aspetta Le ho fatte tutte, le ho fatte Ok, c'è l'unabilità Mamma mia, abbiamo quattro punti Vediamo cosa poter fare Il collogamento dell'anima è più efficiente Di mezzo, il costo, il collogamento dell'anima Molto buono, questo qui cosa fa? Permette di fare Un tetto salti Ragazzi, fra poco lo facciamo Ma di corsa, di corsa E' una cosa buonissima questa Allora, poi vediamo cosa Ah, c'è rimasto solo Una via Cioè, adesso rimasto più via Non è solo una, però Ok No, aspetta un attico Eh, oh cazzo Mamma mia Che ansia Ok, l'altra è qua Siamo a posto Dovremmo andare giù di qua Ah, non si va Si che si va Cosa mi dici mai? Ok Cosa c'è di qua? Non lo so Questo cosa vuole? Qualche facciamo qualcosa Non si può grappare Cioè, in modo potrei anche trovarlo Però Secondo me non va bene Dovemmo fare qualcos'altro Dobbiamo ammattare tutti quelli? Per aprirlo, non lo so Dobbiamo andare di qua per il momento Qui non c'è niente Qui c'è un qualcosa Ok Lì c'è da aprire Qui c'è da fare così Allora, ci sono diverse cose da fare Però non l'ho fatto così Perfetto Perfetto Qui c'è qualcosa Ah, oh Sei molto struso, lo sai? Molto veloce la cosa Io non sono sicuro che Ce la possa fare Quindi probabilmente Devo mettere un peso La cosa che mi viene in mente è questa Ok Un peso dove lo trovo È molto strana sta cosa Eh Eh, vabbè Vabbè Cioè È stata una affiandata da panico Quindi lo li fate da capo Mi sembra giusto Che palle Sti cosi Verete Sono assolutamente Inutili Questo Non si avvicina E non ci arriverei neanche Allora Io devo capire Assolutamente Perché non ce la faccio Ah, proprio appena lo tocco Sono morto istantanea Basta Ok A sto punto Mi sovviene da pensare Che mi manca un'altra abilità Perché sia sopra Che sotto Io non posso farci niente Quindi andiamo sopra Eh, non ho altra scelta Ok Spero di trovare Il modo di Di fare tutte le abilità Perché mi interessano Allora Andiamo di qua Perfetto Di là Oh, calma Che bimbo Bimbo bello Ok Un bel sale Grazie Perfettico Eh Stato molto bravo Lei, complimenti E qui Dobbiamo fare Proprio Di Di Velocità 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 Vabbè Mi fa piacere Che Lei è un grandissimo Stronzo Ok Ok Tipismo Tipismo È il mio secondo nome Ok Non ci provare Proprio Che non è proprio Giornato Uccellaccio Allora Perché Così Piano Che è successo Oh C'è la statua Proprio 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 fantastico ooo suza mi ooo 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 sto pensando se ci fosse effettivamente qualcosa c'è e questo si apre grazie a quello abbiamo già capito l'antifona gli uccelli ok ok anche di qua facciamo così dobbiamo andare di sotto così forse ce la facciamo giusto e qui c'è ancora questa cosa qua che io non posso farci niente perchè tu non mi hai detto qualcosa riguardo quindi niente guardate quante ce ne sono però è tanto strano no non mi fa fare niente e va fanculo non mi fa fare proprio un casso quindi non saprei proprio come usare questa questa famosa abilità quando ce la daranno mi spiegherà anche come usarla spero ok quindi andiamo giù oh una vera abilità premix ah solo poteva diffondere la nostra luce i suoi occhi vedevano persino al buio vivere nel profondo di questa foresta dove ora riposo in pace andiamo un po' ok hai ottenuto l'esplosione di luce per usare questa abilità premi ho tirato lb left button e non c'era l'esplosione di luce oh che cosa meravigliosa quindi non è che tu me la fai ok ok vediamo ah posso indirizzarlo benissimo fantastico finalmente possiamo far tutto quindi se tornassi indietro potrei effettivamente prendere il punto abilità non ci credo oddio quindi scusate fantastico 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 che cosa mega gradita che cosa sto facendo oh santa miserica non si può andare avanti così ah invece si facciamo così vai se lo andiamo qua facciamo così e tanti saluti allora torniamo su un attico ok ok quanto è veloce ecco qua dovevo soltanto capire dovevo soltanto capire oddio si lo dato tutti i santi perfetto ci siamo ricollegati quindi adesso posso andare di sopra finalmente non c'è più qualcosa che gira sul suo canalizzatore quel cazzo che era allora ci aspetti un attico allora posso andare da queste due parti si è stato molto gentile da parte sua ma preferirei far così grazie porca vacca non ho fatto una dritta eh accidenti eh ma cosa stai facendo insomma si fa così fa vedere che sei capace usare abilità eccoci qua eh grazie eh proprio io ci provo lei anche a fare ok facciamo prima no no porca caccia la misericcia cosa non ho capito in tutto questo quella è aperta evidentemente no evidentemente no oh ma che palle ce la faccio più è disceso quindi devo no quello è acceso ah ok quindi si spegne o non l'avevo proprio attivato potrebbe essere che lo avessi attivato eh incoglionati come sono e quindi siamo ooooooh abilité ok perfetto permette di fare un triplo salto eh siamo arrivato gli dice dare in fita dei nemici e questa sarebbe una cosa molto buona ci mancano due punti eh dopo abbiamo finito interessante ah si ho dato tutti i santi adesso andiamo di sotto che bella cosa che mi hai dato grazie mi fa piacere e adesso andiamo ancora giù ok vai cazzo sono andato a cadere proprio lì tutti i posti che potevo cadere sono andato a cadere lì ecco staccunatico va che c'è un po' tremeroni scusi sa non è che volessi essere cattivo però allora devo andare sia su che giù io andrei giù perchè ci abbiamo già visto prima come era un dazzo quindi andiamo perfetto ottimo ah aspetta che sono un po' più ciecato eh allora di qua non c'è niente e va bene ti salviamo glielo di dio eh che cazzo però grandissimo scassa marroni sto coso quindi se noi facessimo così 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 e così ce l'abbiamo fatta con il primo salto grande tu mi hai aperto la porta ovviamente perchè ho avuto i requisiti e prendo l'abilité e vai grande così energia e questo non mi serve poi andiamo ancora di sotto salviamo che non ho voglia di far da capo aspetta un attico ma adesso oh me salve voi siete dei grandissimi scacciamaroni di cose bibliche ok ok qui si va da qualche parte secondo me si però può darsi di no allora qui c'è qualcosa da fare vi ricordate? quindi così così eh no non ce la si fa proprio per prendere questo ah ho capito mamma mia che cosa brutta eh brutta che mi fai fare allora allora possiamo allora possiamo andare così sicuramente vuole essere un pochino più no 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 Ah Io spreco tanto Spreco tanto per fare queste cose E come faccio? Io posso anche andare al centro Non è problema Non mi basta Sono perplesso Perché li sbatte Più in qua C'è cosa di farlo più potente? Non so proprio come fare ragazzi Io sono sincero Sono fatta Non riuscivo a capire Perfetto L'importante è avercela fatta Allora così Perfettico Occidenti Non l'avevo vista I piccioni Hanno rotti i maroni Piccioni Allora tu cosa vuoi? Esattamente Io ti ammazzi questi Vero? Perfetto Grazie al triplo salto Siamo messi molto meglio Oh porca macchia Che cazzo l'aveva visto questo? Andiamo un po' Questo no eh Qualcosa ha fatto Non so cosa Vai 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 Il triplo salto Non è che faccio Tanto in più eh Però Comunque qualcosa fa Ok Perfetto Io direi che possiamo andare giù Eh va Fa culo Aspettate un attico Voglio vedere se Non c'è qualcosa Perché sapete che qui Pino di roba segreta Allora di qua Si può Andare al petto in attico Ovviamente Mi ha preso tutte le volte Tutte tutte eh Oh sputacchiera Mi vente Si fa così Oh porca vacca Si corre qui te Allora Facciamo così Perché non mi fido Molto Io andrei un attimo Di qua Ok Grazie Io l'avevo fatta Già Non c'è niente Qua sotto Può darsi Che ci sia qualcosa Vorrei un attimo Vedere Tanto posso stare Quanto voglio Adesso Ho l'abilità Vediamo cosa ci dice La mappa Che ci dice Che possiamo andare Sia di là Che di qua Di là era chiuso Quindi andrei Di qua Per effetto Pieni Madonna Quanti cristalli Mi dai Ok Ok Aspettate Questo se ne sono Poi verso in alto Allora Questo fa Esattamente cosa Proprio appena Mi alzo Allora Ci deve essere Qualcosa No Guarda giù Così Non lo considera Ho capito Devi salire Ok Salisci Bravo Sì Ma cazzo Se faccio anche Le cacate Ah Non me lo fa Sono sinceramente Interdetto Perché Non ho idea Ho capito L'intenzione Che avevo avuto All'inizio Era buona Esatto Ho detto Che l'intenzione Che avevo avuto All'inizio Era buona Perché Perché Infatti È così Eh porca Laccia Faccia Ma così Ok Calma Sangue freddo Perfetto Ecco perché Così tanti Diamanti Vai Perfetto Andata Andata Abilità Ci siamo Questa ne vuole tre A un posto Tre e quello tre Quindi ci mancano Quattro Abilità E abbiamo pulito Il ramo Che cosa gradita Allora È come se non lo sapessi Eh Ci identi a te Ormai ti conosco Ok Ovviamente Mi ha preso Tutte le volte Ok Perfettico Così almeno Se va a postolo Qui facciamo così Qui facciamo così E abbiamo aperto Quello Grande Così Sono contento Contento Questo però Non l'abbiamo aperto Come si aprirà mai Questa cosa Ah Così Ci sono riuscito A finirci dentro È stato proprio bravo Bravo Perché insomma Non è mica da tutti Questo l'avevo aperto Mi sembra di sì Eh Se ne hanno fatto Una cacata Eh L'avevo chiuso Figurti Ma meno male Che permette di Allora Io li salvo Così Ok Poi facciamo così Perfetto Facciamo così Scusate Così Perfetto Adesso saliamo Oh Siamo da tutti i santi Cioè saliamo Sendiamo Ormai non ci sono più Con la testa È data proprio fuori testa E si è liberato Ok Perfettico Andiamo E siamo arrivati Oh Una palla Interessante Cosa farà mai una palla Qui ci siamo ricongiunti alla fine Eh Ho preso quello che dovevo prendere Sì Ho preso Praticamente tutto A parte quello che serviva Quella dell'antenna Che adesso possiamo fare Che cosa è gradita Penso e credo Spero e credo Che debba Andare qui Oh Un'altra statua Bene bene Che bella cosa Dai sono contento Questa quindi è la madre Che dolce Oh Sta male È morta Che cosa triste Mi ci credo Mamma è che tristezza Anche se non lasciate la nostra foresta Non c'è tempo per il dolore Ricorda che coloro Che se ne sono andati Così che vivano Per sempre Eh Il ciclo Ok Scusate Pensavo di dover fare Vabbè Io direi che Possiamo anche Salutarci qui Per questo video è tutto In video come al solito Lascia un like Comment se mi piace Se mi fai sapere cosa pensate Per la seconda Salute la cima Ciao 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 Grazie a tutti.